Una settima edizione speciale tra celebrazioni e new entry, ma anche i debutti sul web e iniziative per incentivare i consumi. A Gabice Mare è stata presentata l'edizione 2024 dell'Itinerario della Bellezza, un tragitto ideato nel 2018 da Confcommercio Marche Nord per promuovere gli angoli più suggestivi e meno noti della provincia di Pesaro e Urbino. Una formula di promozione turistica assolutamente vincente che quest'anno vede entrare nel circuito nuove località come Acqualagna, Borgopace, Macerata Feltria, Carpegna e Monte Grimano Terme. Le Marche sono una regione straordinaria, poco nota, la provincia di Pesaro Urbino altrettanto, noi mettendo in rete 25 comuni offriamo al mercato nazionale e internazionale del turismo tutte le opportunità, tutta l'offerta turistica del nostro territorio, per questo che è un progetto vincente. Un itinerario che a partire dal prossimo maggio diventerà anche virtuale grazie ad un sito web dedicato. Tra le nuove iniziative è da segnalare l'introduzione di Valore Bellezza, una carta fedeltà che tramite il sistema di cashback vincolato concorrerà al rilancio del commercio di prossimità. L'altra novità dell'anno che presenteremo oggi è poi il nuovo sito web itinerariodelabellezza.it e il progetto di cashback di Valore Bellezza, questo portafoglio che consentiamo di acquisire da parte dei consumatori che andranno ad acquistare nei negozi e nei ristoranti dei comuni che fanno parte dell'iniziativa. Anche questo è un modo per fare vivere le nostre città, far vivere i nostri borghi e per aiutare le imprese commerciali nella ristorazione delle nostre città.